Grandi interpreti e orchestre di fama internazionale, protagonisti della stagione sinfonica che si può seguire al Teatro Sociale di Sondrio. Mercoledì 28 febbraio è in programma il concerto del mezzo soprano Manuela Custer al pianoforte José Ramón Martínez. Per ascoltarla bisognerà però attendere maggio. Presidente D'Agasso, dunque Manuela Custer, la vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Sì, la vedremo a maggio perché una laringite acuta l'ha costretta a non muoversi dal letto e a sospendere quindi il concerto di domani. Ma sia il programma, sia l'artista, sia il pianista sono confermati per il mese di maggio. Quindi anche per chi avesse già acquistato il biglietto? Il biglietto ovviamente sarà valido per il mese di maggio. Comunicheremo la data al più presto. Maestro Passerini, la stagione sinfonica è davvero un grande successo. Guardiamo anche in prospettiva, ci sono novità? La prossima stagione è addirittura ad arrivo, nel senso che praticamente ormai abbiamo definito tutti quelli che sono gli inviti per il 2018 e il 2019. Forse una delle cose più allettanti da dire sarà che l'inaugurazione, prevista per 22-23 settembre 2018, vedrà in scena i Carmina Burana di Karl Orff, che vedranno sul palco più di 200 artisti coinvolti. Parliamo davvero di un nome di livello mondiale? Assolutamente, è un repertorio straordinario, qualcosa di grandioso. Sarà coinvolto un grandissimo coro, tre solisti, un coro di voce bianca che verrà proprio dalla scuola civica di Sondrio, l'orchestra Vivaldi. Quindi veramente credo che inaugurare meglio di così la prossima stagione forse non sia possibile.